calignaia acqua fresca mare carmo tanto sole tanta gente splendida giornata di mare in lontananza il castello del sonnino se mi riesce ora faccio un po di zoom gran bel posto il sonnino era uno che sicuramente ci apiva e ci apiva tanto si ha fatto il castello lì un posto così lo trovate lungo la costa labronica oppure andate in sardegna o in corsica la spiaggia incomincia ad essere bella piana giorno festivo acqua fresca mare pulito tanta gente tanto sole bel panorama per tutti quelli che restano al mare tutto il giorno il consiglio di mangiare poco può comunque far passare sempre almeno due ore e mezzo meglio tre tra il pasto e il bagno se no ci potete anche schiattare e poi vi rovinate la giornata un saluto rapido promemoria la mattina presto e sino alle 13 ora solare alle 14 ci sono gli ultravioletti dalle 13 alle 17 ora solare ossia dalle 14 alle 18 ci sono gli infrarossi dopo le 17 ora solare ossia dopo le 18 ora legale tornano gli ultravioletti acqua bella fresca pulita il sole picchia forte ci vuole la crema almeno 20 di protezione meglio 30 o più per il resto gran bella giornata di sole e di mare l'acqua non è ammarmata come era invece l'altro anno negli stessi tempi stesso periodo un saluto a tutti i poveri cristi che non stanno in una città di mare ciao ciao benvenuti alla prima puntata ufficiale di mia calignaia estate 2020 speciale fondale di calignaia in questa esplorazione virtuale in tempo reale ci inolteremo nella piscina dei tuffi a calignaia è detta così perché c'è uno scoglio alto da dove tutti si tuffano fondale di 4 5 metri di profondità con molti scogli acciughine salpe ed un bel pomodoro di mare vi hanno posto la propria residenza è un habitat pulito con una qualità dell'acqua notevole altrimenti la variegata flora e fauna non vi potrebbe sopravvivere godetevi quindi queste escursioni virtuale e buon divertimento ciao alla prossima puntata grazie a tutti 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 grazie a tutti